Musica Musica Cari amici ben ritrovati a Sfida Vincente Daily, questa sera con noi uno start-up che si è inventato, questa start-up molto innovativa che si chiama Ambrogio Menu, lui è Matteo Roetto. Ciao Matteo, ben arrivato. Ciao. E che cos'è Ambrogio Menu? Ambrogio Menu è una start-up che propone un servizio alla ristorazione. Noi abbiamo due clienti, i ristoranti e i clienti dei ristoranti. E noi proponiamo la digitalizzazione del menu per renderlo filtrabile rispetto a tutte quelle che sono le esigenze di specifiche persone, come ad esempio allergie, intolleranze, piuttosto che anche scelte alimentari. Non lo so, musulmani che non possono mangiare determinati tipi di carne. Interessante. E quanto tempo fa nasce questa start-up? Ah, siamo neonati, nel senso che l'idea è nata sei mesi fa e i primi cinque mesi sono stati di progettazione, adesso da due mesi a questa parte siamo più sul lato commerciale, comunicativo, marketing. Sei da solo oppure c'è qualcuno che ti aiuta in questa bella esperienza? Siamo in due, due soci, a questo momento il mio socio chiaramente non c'è, sono venuto solo io a rappresentanza della start-up e poi ci affidiamo anche a una partnership con uno studio di informatici, la Shilder SRL che ci cura tutta la parte di gestione del sito. E con il dettaglio, per i nostri amici che ci seguono da casa, come funziona operativamente questo servizio? Operativamente il cliente si trova a tavola in un ristorante che è aderito al circuito e può, scannerizzando un QR code presente sul menu, andare a vedere quello che è il menu digitale e quindi renderlo interattivo, maggiormente interattivo e scoprire subito a colpo d'occhio quali sono i piatti che può o non può mangiare. Certo, e questi ristoranti come li trovate? In questo momento siamo nella fase venditori porta a porta, cioè ci presentiamo, andiamo con il nostro servizio, le nostre brochure, anche facendo vedere una demo del prodotto e cerchiamo un attimino di dialogare in maniera anche personale con i ristoranti. A che punto dell'innovazione siete arrivati? In questo momento stiamo per partire, abbiamo poi fidelizzato una ventina di ristoranti e stiamo per partire a breve proprio con l'esperienza vera e propria nei ristoranti. Bene, ringraziamo Matteo Roetto, fondatore di Ambrogio Menù. Grazie. 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 Grazie.